bene 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 cosa bene una bella lux che mi romperà le balle e poi lux c'è la ulti ogni 10 secondi c'è non so quando me la beconti non ultarmi perché darà più fastidio secondo me non sarà l'asce boh ma non è livello alto asce si ma soltanto per la v intendo ok ok state safe fino al 6 per arrivare al 6 comunque to bounce fatto bene a giocare bromo che c'è lo scudo in bocca agli attanti vieni qua pd ottimo ole io quanto ho di ping 38 aspetta ma io devo mettermi le impostazioni da dc ok no no cioè vedi io premo col sinistro e lei si muove col tasto sinistro col sinistro si ma sarebbe l'auto attack quello che tu fai premendo a e poi cliccando io lo faccio col sinistro il problema è che mi sballa tipo se io voglio andare se voglio guardare la mini mappa cliccando lei inizia a andarmi da quella parte di là quindi devo tenere premuto shift e poi non so come fare i segnali perché con v non me li fa così non so come si faccia a me li fa con ctrl con ctrl proviamo ctrl v ah si è vero ctrl v grande samu però è un bagolo con ctrl che rottura perchè c'è lux mid si gode c'è morgana allora qua eccola lì eccola lì eh si è meglio ah ma forse è più meglio così si si è una stra alta lux boost per contro ho già lo scudo con la è inizia lo scudo con la è inizia che fa è inizia ci fa è inizia è Diana giunga grande Vez ah c'è i biscottini i biscotti, i biscotti eh vabbè, raggio infinito no, c'è un niente là no, volevo pigliarlo, volevo pigliarlo, sì ci sta, ci sta giocate su che uff 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 ah, sono scupito Sono molto stupido Dimmi quando si vuoi inseguirli No no Ti scudo Vabbè vai 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 Ok basta 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 La scudata la scudata No ma dico quando vuoi pushare io ti scudo Ok Non era per adesso No maledetto No Ciò ciò No Che riccio Top ten Alicia and Skipper Via 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 Ascena Inizio Inizio Ascena Vabbè torna in base tanto ha pushato Mi sono tornato più dove Eh mi sono stati si C'è il traghetto qua da lui C'è Oh no 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 no.... Scudenza Il traghetto Il traghetto Paola di Anak se l'avevi riferibottato ho visto guarda anche a politica ampi la puttana adesso vado a farmi andare sto bene con cento e il male si nasconde dietro ogni angolo no 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 via via paura olè ok il barco il mio mecca ah 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 leopoldo ah cazzo di cose di faccia non voleva eh no cosa eh niente pensavo di lastittarlo ah lascia ah lascia ah lascia 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 oop se mi faccio il save di gankos arrivo un po' arrivo anche a me non so vedo un attimo non credo di farlo grazie si fate di punciare tanto ci penso ad andare soli Nooo, ma di non cambiarmi il bersaglio. Ok. Ok, ok. Vai, vai! Grazie, Sam. Mi piace una world ecco. Ma che c'è anche Morgana. Si ha pulito tutta la giunga. Ah! Che palle lo scudo cosa sbaglio a metterlo. Allora. O quando arriva con l'arpione tu la pigli, Vez? Non c'ho l'arpione. Non c'ho l'arpione. Non c'ho l'arpione. Alza il tegno. Non c'è. Non c'è. E comunque non è male anche sul tegno. mi lappendo al muro quella lì guarda come la appendo al muro, no è scappata se no vecchio la appendevo al muro allora vado ad appenderle al muro no che sennò morgana mi mi blocca lì sotto ma il loro jungler il loro jugler devo ancora vederlo grande Samu sei immenso occio mamma ero già lì a scudare sto aspettando che i minion perdano vita aspettate che arrivo lol mi ha lisciato ci sei Samu? eh no no vabbè ci penso io bella vai Vez vai no Vez un'altra grande vuole vuole via via allora venite al drago occio tu forse ci sei si folle ci stanno? se l'ha appena fatto la puttana eh si no lasciamene un po' lasciami quello lì Samu lasciamelo grazie beh non pagare nulla hai gli APD eh insomma io c'ho 1.5 di oro quindi se non servo eh anche io ho 2.000 vai andiamo back ma tu sei un po' più carico qua oh no adesso vengono a pigliarmi vabbè in caso in caso io ho no vabbè un'altra no 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 occhio che Ashe e Morgana stanno venendo mid si ma mamma mia no l'ho lisciato vabbè ecco ma eccoli eccoli no non sono in troppi porca miseria spara diversa che la mazza si no mi ammazza lei ecco grazie Samu per avermi mandato al macello vai 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 eh dai ci abbiamo provato come si usa la legna non so mai usare come si usa la legna Anti sulle ali della notte guarda come ci souffro, ma loco no ha cominciato di nuovo ah fermati un attimo dai, un secondo ci siete? si però muoviti perché stiamo pushando noi eh niente vediamo se mi segue no si 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 sta arrivando sta arrivando Samu dove sei? eh vabbè quello lì è dall'altra parte c'è Carlo c'è Carlo ma sono un sottocorro non si riesce a farlo via 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 dietro lo scuro il nemico è stato ucciso ma no è quello che fa l'ulte a tutti è quello che si teletrasporta sul nemico e che ancora l'ulte a tutti? si è strano no quello è Kartus no è una macchina da guardare metto un lumino lume 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 di candela e tu guardatevi assorle il cuore olè fra non preoccupare no 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 cos'è immune alla magia? anche io voglio è morgana si si e comunque usa il knight porca padre nooo eh si vabbè nooo ma no cosi eh l'ho detto che sei tantissimo grande grande e calmo c'è anche un po' che cazzo la guapa no no non so ma cosa c'era quella roba lì? cosa? boh asce mi ha tirato una roba che non ha mai avuto eh era il piccione per vedere ah si è vero e infatti non li uso mai è world bot non c'ha più di metterne al drago eh forse altri bash nooo via 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 ti saluto ti saluto? eh ha notato l'ho avuto e che foe? io vado in base fatti un po' di lungo adesso vamo lì adesso vamo lì ti vengo dietro Sam non c'è poca vita no eh 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 ok ora vengo qui veramente vai 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 ah no ti ho scambiato per karma c'è Diana è nell'erba è nell'erba eccola volete che andiamo? dove va Morgana? dove va Morgana? seguiamo? seguiammoli nooo ma porco d'inci oh ma l'avevo usata dieci dieci secondi fa la ulti di nuovo ce l'ha ahah occhio la tombola grazie karma mi è andata a menarla no 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 dai vi prego ok però sono morto comunque grazie karma occhio 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 che se mi fa la E madonna guarda un'altra ulti quante ulti c'ha c'è ma che livello è? al 12 orca puttà bello cosa c'è non c'è oh uuuu 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 chi è che fa lì? occhio ascia non capisco un cazzo uuuu uuuu uuu uuuu uuuu e quindi? vieni adessi ingatti ah ah è decisare eh eh ora un po' meno uuuu rip uuuu Occhio c'è Lux, grazie. Ma la smontiano sta Lux, sarà ferma. Grande, grande. Tirate giù la torre se riuscite. Io ho messo un po' di muro. Un po' di elimini. Arrivo. Vieni, viena. Carmo vuole aiuto e io vado. Andiamo. Non so perché vuole aiuto. Oh, c'è Diana. Arrivo, viaggiatela. Ci stiamo provando. Arriva. No. Grazie. Eccolo lì. Eccolo lì. Come fate? Un nemico è stato ucciso. Mistero. Mistero della figlia. Della fig... Grandi top. E cosa faccio? Samu vengo lì o... Sei in mid. Opa-pa-ra-pa-pa. Quando vediamo l'occasione, pushiamo. Altrimenti stai verso metà campo. O tipo adesso che sono tutti lì, andiamo un po' più avanti e pushiamo. Ok, adesso lo torniamo indietro. Eh, vengono i veri suoni. Che faccio io? Vi seguo voi? Sì, sì. Tu stai con un roll. Eh, bot bot. Sì. C'è anche il drago. Occhio. Hai una ward da piazzare qua? Ma non so pure rock. Sì, ma ho sbagliato il salto. Secondo me devi mandare qui, eh. Eccoli. Arrivo, arrivo. Eh, voglio lo stumano a vedere. Occhio, occhio. C'è un po' beitato. Tu sei un po' beitato. Non c'è karma. Mi prende dal culo. Ah, ma non so. Ah, ma non so. T'hai ultato per un cazzo, eh. Grande. Eh. 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 Se non gli ho vinto le tante. Bella. Non so perché non mi abbiano lanciato le spell per bloccarmi. Perché mi pigliava. Ma forse non ce l'avevo ancora. Non c'è anche lì. Vai, 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 vai Ti conto da quando respawna c'è tipo 5 secondi È già respawnata, mi sa Vabbè gliela butto giù e scappo, ciao! Eh, no Un lumino qua e un lumino qua Donnamo, donnamo Eh, adesso se vuoi vets vai a difendere botta Ok, poi vado in base perchè sono pieno di sordi Sì Vado anch'io botta Sì, sì Contra me E se ti rubassi il rosso? Sì, in realtà potresti anche prenderlo No, vabbè Però sono sempre senza vita, quindi O dimmi tu se lo vuoi No, no Boh, vado in base, anzi facciamo anche questa wave Cazzo No Ok Eh, il gat Sono 5 E vuoi che arriviamo, Samu? Eeeh, adesso andiamo io Vediamo Ah, ma tu sei lì Aspetta c'è Morgana che sta venendo qua Ho paura Vai tu davanti Eeeh, bruciate quella wave lì, magari O caldo No, no, no Chi era? Era Morgana Eh, ma sono tutti da Eh, ma sono tutti da Io l'ho avuto tipo una volta Eh, ma sono un po' mi sa Ok Siamo tutti qua qua Appena vedo le fasce Si, Samu, occhio che arriva Diana da dietro Va bene? Da dietro è qui Ok è andata via Ah, vabbè, ma non so quanto riguarda io E quindi pushiamo mid? Si, si, voi pushiate mid e io pusho botte Non l'ho capito di intervenire Bella Bella Assistimi, Carmelo Bene, arrivo Carmelo Vuoi fire baron? Non lo so Io aiuto Ah no, c'è un tipo C'è sette Eh, vai, fatti baitare Nooo Sorrate Via via Speravo che mi vedesse e scappasse Vabbè Che fai inizio Nooo Nooo Cosa facciamo, Samu? Io ho paura Non vado Eh Magari tornarti inizio qua Si, adesso si, via 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 No, al tavolo stanno arrivando Mi sa Potrebbero essere qui adesso Via 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 Eccoli Eh, sono lì Beh, ti rubo la giungla, Samu Va bene Va bene Va bene Se c'è Si, si Beh dai, non c'hai messo in mano adesso Chi? Io Ok Dai, anche tu vado Se c'hai un botto di ulti Ci sono i Krags Ok Chi vuole fare? Ah, ok Eh, sono tutte lì Cosa vuole fare? Ah, no Che fanno? Guarda se si espongo Eh, sono Mi sono esposto No, io non ingaggio Perché la vedo con Eh, io sto arrivando Eccomi Ah, è sotto la torre con la Ah Tutta roba, tutta roba Tutta roba Tutta roba Tutta roba Tutta roba Ah, no No, vada Dai Hai fatto la puttanata Purimassumi Va alla tua Ah, no Se si fanno i vado Sì, ma io da solo non faccio niente Eh, tu vado, dipendimi da me Eh, tu vado, dipendimi da me Ho fatto la puttanata Eh, lo so Eh, lo so Eh, l'arma Lo so Vuoi che faccia? Eh, Ward Sono lì C'è No, no E' Non ti pare Non ti pare Se c'è soltanto lei Ok Oh, vai Ingalgera se vuoi Che arrivo Non dobbiamo lasciarle fare il drag No Ok Non ce l'ho Arrivo Bella Occhio dietro Bella Via adesso Via 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 Che abbiamo il drag Abbiamo Il botto di danno Eh, potevamo farceli allora Eh, ma io non avevo i cooldown Eravamo in posizione Che messo E che famo? Armate Adesso potete bruciare botte Let's go karma Perché io adesso mi giro qua sulla sua jungla Let's go karma Mi riesco a dirmi se arriveremo Vai, usciate ancora, vai vai vai, non c'è nessuno Eh, sono davanti a noi Nooo Ci sono davanti Ci sta Non c'è nessuno Non c'è nessuno Bella PORCOSA Mi ha tolto tutta la vita Quasi con la ulti Che cazzo No ma quella lux lì è strafiddata PORCOSA 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 Dici PORCOSA PORCOSA Allora c'è set C'è poco da dire, stiamo godendo Eh, andiamo mid defender da lux Eh, andiamo mid defender da lux Sì Mi ci sono già fatti la torre Ingaggiare lux allora Manco il tempo di Lì ci voglio andare Facco di nuovo una puttana C'è Diana Porca miseria Via 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 Adesso so che tirerà una ulti lux e mi farà fuori Ho più lì, ho più lì Anzi in teoria ho rubavite Eh no, beh, se ti conviene Ma il problema è che se l'etico riesce con la Q Allora Ammazzati No, no, lasciami dei minion fra Se tu poi riesci a schibare la sua Q No Che sono questi? Sono qui giù Iiii Iiii Che sono questi danni che arriva Vabbè, divana Per fare i vol? Puttana Esa Beh, che dire Che sto qui a non fare? Occhio è qua sotto, è qua sotto Chi c'ha vede? Andate di contro Tanto è da sola Ammazzo male Eh ma non posso andare da solo io Oh cazzo C'è il set lì No, basta Porca miseria quanti sono Un nemico stato ucciso Doppia uccisione in Tripla uccisione nemica Porca boia! Cosa? Eh adesso è Di serie È finish Sono 18 Leopoldo Sono tutti stralivellati, tranne quelli bot, vero, Rocco? Eh. Eh. Chissà cosa vuol dire. Eh, guarda la loro asce. Cosa è la asce? Altre, ci vediamo. Appunto. Allora, mooo, su cazzo. Allora, io vado nella backline. Perché Karma è così avanti? Un problema. Perché adesso c'è il drago qua. Oh. Ado su Diana? No, ci sono. Allora, grazie. Per capo non avessi il video. Occhio, 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 occhio. Occhio, occhio. Cuore, occhio. Ma, è duro. Duro. E se lo facciamo prima noi? Facciamo prima noi tanta roba. No, no, ci stanno a fa' questi, uh. Quando è che si ingaggia? Eh, qua sotto sta già ingaggiando. No, no, lo faccio fuori, quello lì. Boh. Un'ultata a caso, va bene. Va bene, va bene. Puttana, che cazzo di gara? No, senza Samu non possiamo fare niente. Ma il drago potreste anche farlo, perché sono solo in due. ci arriva. Vai, vai, vai. Uh, vai, vai, questo. No, no, c'è Lux, fra... Fuori, grande, fuori. Vai, va. Occhio, no, 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 mira, non andarci non a mezzo, mamma mia. Ok? Vai vai lo finisco Lo finisco il drago No occhio che lo ruba No lo uccido se lo ruba La puttà Bravissimi tutti Z che l'ha tenuta lì in mezzo Adesso ce l'avete Solo voi tre però L'anima del drago E che si fa Quella lì quando un campione Ha tipo il 20% Di vita rimanente Ti prego dammi due minion Che mi faccio l'angelo custode così almeno un po' di vita Io non l'ho mai capito Scusami Tu che sei un Un nerd Tu che sei un conoscitore Legidia del sole no? Si Ho un 36 sopra l'immagine Che cazzo vuol dire? Che sei finocchio E i danni magici ti fanno meno danni E tipo Lux a te Toglie molta meno vita Perché c'è un numerino su? Un numerino dove? Sopra l'immagine dove c'ho gli oggetti Sul 1,2,3 Ah quello sono per gli oggetti attivi Però sono tutti passivi Ok Che chi d'assiste in questo? Ma il Baron Per quanto spawna? Ora c'è Spawna Oh facciamolo Sono tutti vivi Eh no Mets Sono tutti vivi E Perfetto Stato Nosa tutti abbassa Andiamo ad ammazzarlo Sì ma Mets Prima non so come abbiamo vinto il compagno Eccoli Vai 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 finiamolo Ottimo bella Vecchio c'ho di quei danni Non morite ragazzi Stiamo compatti Occhio che c'è Diana La puttana Esatto Sì sì Pusciamolo adesso Occhio occhio sono in tre Anche quattro forse Anche noi Bella Che dici Nocturne? Che fai si mi ha lì Accelerare Noo quanti danni Lasciatemi dei mini Mamma che danni che fanno Ok Madonna Quanti danni fa Grande carbo Occhio che c'è Ah no Ok Rivediamo Eh no mi curo un po' Ok Boh Sono full Cioè ma io la perdo come niente la vita La recupero subito Dov'è Sì è la dici Qua è pushata Poi pushata Pushata Che dì? Non so chi sia questo Occio occio Ma capica Spesa Scudino 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 Ok Non ingaggiate eh Tanto noi abbiamo No! Andiamo mid? Occhio... No, no, no. Lasciamo stare perché siamo in tre. Ok. Eh, allora andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Poi io vado verso il Senna. Eh, anch'io. Allora, farei così. Spiazzate... eh, così. E così. Vezza, infatti è rosso. Eh... sono in mid. Maos, tu hai da ulti? Sì. Dove, dove, dove? E' qua. Ci serve una mano, arrivo. Mamma mia. Grande Vezza. No, bravata. Se no c'era anch'io. Ok. Se avete finito la build, prendetevi l'Elisir. Cos'è l'Elisir? Eh, sono delle pozze, che costano 500. E vendo la lama di Doran? No, no. Ah, sì, sì. Quella vedi. Così ti compri un altro oggetto. Eh, ma l'Elisir dove lo metto? No, no. L'Elisir... Usalo soltanto quando sei in nuovo. Eh, ma io ho tutti i blocchi occupati tranne uno. Cosa ci metto in quell'uno lì? Eh, prendi un altro oggetto. Ah, ok. Eh... Boh, non so più cosa prende. La furia di Gwynzò? Eh... O l'arco scudo immortale? O la scimitarra di mercurio? O il frammento di infinito? Frammento di infinito che faccio danno? Sì, sì, sì. Prenditi quello. Dovresti fare dei danni. Eh, ancora non ce l'ho. Non l'ho finito. Guardate, sono in due lì. Oh, non ci hanno visto. Ma adesso vedranno me. Loro non sanno dove sono io. Vabbè. Facciamo il drago, fra... Ah, c'è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Sì, sì, sono qui. Vai, iniziate il drago che non c'è nessuno. Io vi faccio. Beh, non c'è nessuno, non è vero, però ok. Sono tutti qua. Sto venendo occupati qua, dai. Vai, 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 vai. Vai, vai su Diana, sì. Ok. P***a, Diana, la zocco, va. Vai, vai. Doppio uccisione. Sono morti tutti. Bellissimo. Vai, vai, vai. Pushiamo, pushiamo. Dai l'occhio. No, chi è che va in base? Ah, in botta. Lol. Vabbè, noi ne abbiamo in mid. Penso già all'inibitora. Mid c'è ancora la torre, Vesta. Che devo fare? Arrivo, arrivo. No, bot, bot. Ok. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Vai che a questo video non mi fico. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Eh, dove aspettare il mit. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Dov'è? 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 Ah, lol. Bella, bella. Bella, bella. Ho anche registrato da quant'era bella. Sarebbe ancora più bella. Bella. Prendendo la cassa. Cosa che non ho... Eh, io voto Z. Z vota il Samu e il Samu vota me. Porco, due, ho preso più. Ma che hai votato, Samu? Ho votato te, Vest. Ok. Io Z e Z te. Che... Zero kill. Top support. Eh, beh. Beh, c'hai 21 assist. Eh, beh. Fatti. Questo. Dai, che scatole. Eh, beh. Sei morto sette volte, Fran. Eh, sì. B? Beh, dai, B. Mi accontento. Quanto costa, Brown? Una barca di sordi. Una barca di sordi. Oh, ma... Abbiamo... Negozio. Oh, ma Poppy è valido, giungla. Oh, c'è Talon in sconto. Quello per... È il main di Luca? Esatto. 4008, bravo, ma... Oh, Samu. Deo porno. Poppy giungla è buono. Ma... E Singed dov'è che gioca? Top? Sì, Singed è top. È forte? Ma voglio Giard? No, no. C'ho già... C'ho Hogarth. In realtà c'avrei anche Diana come framment... Ah no, non è vero. Ho appena scoperto che non ho il frammento di Diana. E cos'è che ho di Diana? Niente. È Alistar? Alistar è un suco. Sì, lo so. Mmm, a me non piace. Però è forte. Cioè, devi saperlo usare bene. È carino perché ogni volta che muoiono Minion... Ogni sette Minion che muoiono ti ricarica la vita di passivo.